Francisco Rodriguez d'Achille, Head of Institutional Sales di Amiral Gestion. Ad Amiral Gestion non facciamo analisi macroeconomiche perché siamo analisti fondamentali. Nonostante questo seguiamo il Shiller P per stabilire la nostra asset allocation ottimale. Cosa ci dice oggi il Shiller P? Gli Stati Uniti hanno delle valutazioni molto alte. L'Asia è la regione senza dubbio più interessante non soltanto solo a livello di valutazioni ma anche nel suo miglioramento costante del corporate governance. E sull'Europa stiamo trovando opportunità interessanti su diversi livelli di small e mid caps. Ad Amiral Gestion applichiamo una filosofia basata sul value investing. Il value investing è basato sul senso comune e l'applicazione di un margine di sicurezza molto affidabile. Questo margine di sicurezza viene calcolato fra il valore intrinseco della società, calcolato da noi, e il prezzo di mercato. Questa differenza fa sì che noi stiamo acquistando delle società a un prezzo molto ragionevole e interessante. Tutta questa strategia raccontata prima si riassume su un fondo di investimento chiamato Sexton Grand Large, un fondo di investimento bilanciato flessibile che usa il Shiller Cape per determinare la sua esposizione all'equity globale. Qualità, consistenza e razionalità. Qualità perché all'interno di Sexton Grand Large selezioniamo le migliori società all'interno degli altri fondi di investimento della casa, basati su uno screening qualitativo di 28 fattori che applichiamo e che diamo una nota qualitativa finale. La consistenza perché Sexton Grand Large ha realizzato un 10% di performance annualizzata in 16 anni di storia, con una volatilità al di sotto del 5%. E la razionalità perché il per the Shiller lascia ai gestori lavorare su quello che vogliono focalizzarsi, lo stock picking e l'analisi macroeconomico che di solito 3 su 4 estimazioni si sbagliano, lo lasciamo a un ratio completamente obiettivo e rigoroso. In questo momento è un momento complesso di mercato perché i rischi che si sono assunti non hanno ripagato. Allora, l'esposizione ottimale da parte di Amiralgestion crediamo che sia un 30% di azionario globale, più specifico sull'Asia, dove stiamo trovando delle opportunità interessanti a valutazioni molto sottovalutate e con un miglioramento costante del corporate governance. Un 20% di obbligazionario anche globale e abbastanza flessibile e dopo essere molto sposti sulla liquidità, una liquidità attiva e dinamica per approfittare le condizioni complesse del mercato. Il fondo conta su intorno alle 80 posizioni, però è vero che il portafoglio è concentrato il 50% sulle principali 25 posizioni. La volatilità storica di Sextan Grand Large si trova al di sotto del 5% perché lavoriamo con società di alta qualità e di poca fluttuazione sul mercato. La volatilità a tre anni si trova al di sotto del 2%. L'obiettivo del fondo è la generazione di Alfa in modo regolare nel tempo, quindi battere il suo indice di riferimento negli anni, come tutte le strategie di Amiral Gestion. L'unica differenza di Sextan Grand Large è che è stata fatta per un profilo più conservativo di lungo termine. Il fondo si rivolge a tutti i tipi di investitore con un orizzonte minimo temporale di 5 anni. La caratteristica principale di Sextan Grand Large è che ti aiuta a stabilire lei se stessa la set allocation ideale, quindi ti dimentichi di come sono messi i mercati e la strategia lo fa da solo, sempre con la generazione di Alfa come obiettivo primordiale.